Calma, 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 ancora tanta tanta calma. Si leggono delle cose fuori dal mondo sui social negli ultimi giorni e le ultime ore per quella che è la vicenda attorno alla trattativa che porterà in bianconero Douglas Lewis con il trasferimento di McKennie e Ealing all'Aston Villa. I club sono d'accordo da un po' di tempo, c'è ancora da mettere a posto qualche dettaglio e in particolare sull'ingaggio di McKennie, ma insomma adesso proverò anche a fare chiarezza e a ricostruire il tutto, però calma, anzi facciamo così, ancora prima di continuare iscrivetevi al canale, giù tasto iscriviti, attivate anche la campanella delle notifiche così potrete sempre rimanere aggiornati alla pubblicazione di nuovi contenuti e perché no fatemi le domande se ne avete voglia e ovviamente insomma nutrite fiducia nei miei confronti perché provo adesso a fare un po' di ordine. Juve e Aston Villa parlano da un po' di tempo dello scambio tra questi giocatori e l'Aston Villa ha necessità di fare questa operazione entro al 30 giugno perché deve mettere a posto il bilancio rimanendo sui parametri dell'effer play finanziario e questo è il motivo per cui insomma i lavori tra Aston Villa e Juventus sono in corso da un po' di tempo ed è per questo motivo che i club già in tempi non sospetti hanno raggiunto l'intesa di massima per poi passare a colloquio con i vari giocatori. Trattandosi però di un'operazione che riguarda tre giocatori, tanti entourage, tanti intermediari è normale che ci siano anche delle fasi in cui insomma le negoziazioni richiedono un po' più di tempo rispetto ad una normale operazione con un giocatore in mezzo, magari due o tre intermediari, due club è un'operazione semplice, questa è un'operazione complessa ed è un'operazione in cui la Juventus non ha la necessità di forzare i tempi semplicemente perché la Juventus ha sì l'occasione di prendere un top player a livello internazionale come Douglas Lewis con il quale ha già raggiunto l'accordo totale anche per l'ingaggio ma chi ha più fretta di chiudere questa operazione obiettivamente è la Aston Villa e comunque c'è del margine perché ripeto la Aston Villa deve fare questa operazione entro il 30 giugno al momento la Aston Villa che ha già raggiunto l'accordo con Ealing insomma è in una fase in cui deve trovare l'accordo con McKennie e comunque stiamo ancora parlando di dettagli non stiamo parlando di un'operazione che non è vicina alla chiusura è solo questione di giorni, lo sa la Juve, lo sa la Aston Villa lo sanno anche gli stessi intermediari che stanno lavorando su questo tavolo di trattativa sostanzialmente cosa chiede McKennie? McKennie pochi mesi fa aveva incontrato la Juventus club col quale ha un contratto che gli ha consentito di percepire 2 milioni e mezzo di euro e ne richiedeva 4 per rinnovare il contratto la Juventus ovviamente non era disposta ad andare avanti anche perché chiedeva un ridimensionamento dei costi e quindi anche la possibilità di andare ad asciugare il compenso del centrocampista americano che già l'estate scorsa sembrava fuori dal progetto bianconero poi insomma fu ripescato all'interno della rosa è stato sicuramente protagonista di un'ottima stagione ma è un qualcosa che ha preso forma strada facendo considerato che McKennie ha potuto approfittare dello spazio che si è aperto per l'infortunio e poi la squalifica di Pogba, dunque la squalifica di Fagioli per McKennie che ha cominciato da quinto a destra poi si è aperto anche lo spazio per avere maggiore continuità da mezzala ma ricordiamoci che McKennie nella Juventus aveva già terminato i giochi a disposizione a gennaio dell'anno scorso quando la società lo mise fuori dai giochi cedendolo in prestito a Leeds dove non è che abbia fatto un granché bene in ogni caso McKennie nell'ultima stagione è stato protagonista di una buona annata e forse è anche il momento più giusto per tutti affinché questo trasferimento possa essere monetizzato discretamente bene tant'è che la valutazione di McKennie è una valutazione congrua così come congrua la valutazione di Ealing che è vero ha trovato poco spazio alla Juventus anche nell'ultima stagione, ha giocato un po' di più sul finale però soprattutto nelle nazionali giovani l'inglesi che si è messo particolarmente in luce Ealing non ha fatto fatica a trovare l'accordo con la Stonvilla la Stonvilla va ad investire su un giovane di prospettiva ovviamente lui come McKennie ha un contratto di scadenza al 2025 quindi la Juventus evita di perdere a zero i due calciatori dopodiché ripeto siamo semplicemente in una fase di negoziazione tra il club inglese e l'entourage di McKennie ma stiamo parlando di dettagli nulla che possa fare immaginare la possibilità che possa saltare questa trattativa è un affare in chiusura e lo sanno un po' tutti i protagonisti e forse anche il motivo per cui quando si parla di dettagli si prova a tirare la corda più possibile anche perché c'è del margine poi quando arrivi lì prossimo alla chiusura obiettivamente si trova in qualche modo l'intesa questo è un po' lo scenario e per questo motivo credo non ci sia nulla da preoccuparsi almeno in questa fase considerato che la Juventus con Douglas Lewis ha fatto tutto e anche da un po' di tempo ripeto la Stonvilla con Ealing ha fatto tutto sta adesso lavorando sui dettagli dell'ingaggio di McKennie che alza un po' la siccella vorrebbe guadagnare un po' di più rispetto a quanto fatto in questi anni alla Juventus questo è il disegno della trattativa e dell'operazione che sta per prendere forma e mi sento di dire che difficilmente salteranno le condizioni affinché si possa arrivare alla chiusura la Juventus subito dopo passerà al secondo obiettivo in mezzo al campo che è Copp Miners è chiaro che da qui all'inizio della trattativa con l'Atalanta che per Copp Miners chiede 60 milioni io credo la Juventus dovrà anche andare a concretizzare un'uscita del motivo per cui credo sia giusto seguire con attenzione i movimenti soprattutto dell'entourage di Sule che è da un po' di giorni al lavoro per cercare delle offerte vicine alla richiesta della Juventus Giuntoli vuole 40 milioni per cedere il classe 2003 argentino vi ho già raccontato come nei giorni scorsi il suo agente abbia parlato con diversi club inglesi c'è l'Everkusen un sondaggio l'ho fatto anche il Borussia Dortmund c'è del movimento, c'è del fermento attorno a Mattias Sule che sì, farebbe sicuramente bene nell'ambito del progetto di Tagomot ma la Juventus deve in qualche modo patrimonializzare con qualche giovane affinché possa reinvestire sul mercato o in entrata questa è un po' l'agenda di Cristiano Giuntoli ma tornando all'argomento principale non c'è da avere alcuna paura nessuna frenesia, nessuna fretta di andare a raggiungere questa fumata bianca nell'operazione che stanno portando a termine Juventus e Aston Villa semplicemente perché credo più che rallentamenti siano delle normali fasi che in una trattativa così complessa che riguarda tanti giocatori e mette attorno al tavolo tantissimi entourage credo insomma siano delle fasi più che normali ancora di più perché c'è del margine da qui alla data ultima in cui bisognerà fare questa operazione quindi come vi ho già detto se la Juventus e la Aston Villa non riusciranno ad arrivare alla fumata bianca entro questa settimana potranno ancora sfruttare qualche giorno della prossima settimana l'importante è che questa operazione si porti a termine entro il 30 giugno ne sono consapevoli tutti e ad oggi mi sento di dire che non ci sono i margini affinché questa operazione possa saltare entro i termini previsti ditemi voi cosa ne pensate spero di avervi un po' tranquillizzato rispetto insomma ai tanti messaggi che ho ricevuto alla frenesia che ho colto nelle ultime ore sui social spero di aver fatto chiarezza in qualche modo prima di salutarvi come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e anche di attivare la campanella delle notifiche rispetto insomma ai tanti messaggi che ho ricevuto 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 Grazie a tutti.